Buongiorno, oggi ospite della D, Mimmo Calopresti, un regista, uno sceneggiatore, un attore che da poco ha realizzato un film straordinario che si chiama Sprumonte, tra poco sulla D. Mimmo Calopresti, buongiorno, ben trovato e grazie per essere il nostro ospite di eccezione. Tu sei un regista, sei uno sceneggiatore, sei anche un attore che ha realizzato da poco questo film di cui si sta molto parlando che si chiama Sprumonte ed è un po' un ritorno alle tue origini se vogliamo, è un luogo, le origini che sono un po' anche un luogo dell'anima, tu le chiami? Sì, sì, questo film si chiama Sprumonte, la terra degli ultimi, soprattutto c'è questo sottotitolo che vuole indicare bene ci tornavamo dopo, sì, esatto, dove voglio andare ad arrivarci, è un film girato ad Africo, che è il posto più lontano del mondo, in Calabria, sull'Aspromonte io non sono nato in Aspromonte, sono nato in Calabria, Polistelo, vicino diciamo all'Aspromonte, nella Piano in realtà, da dove parte l'Aspromonte e grazie al fatto che ho incontrato un produttore che si chiama Fulvio Lucisano, che oggi ha 93 anni, di origini calabrese che anche lui, come dice, stava cercando un film per tornare alle origini, ai padri, dopo un po' ci siamo messi d'accordo che stavamo alla ricerca dei nostri padri, cioè, e lui addirittura padri dei padri, no? Nel senso, cercando di andare lontano infatti il film è dedicato alla gente di Calabria, diventa proprio un ritorno a quello che sei al posto più puro del mondo, secondo me, che è l'Aspromonte Quanto conta la tua calabresità, nella tua vita personale, ma soprattutto anche professionale? Che cos'è la Calabria? È una terra misteriosa in un certo senso, non poco indagata Ha due caratteristiche, abbandonata da tutti, dalla politica, da tutti, c'è proprio un'idea dell'abbandono Punto, la terra degli ultimi E dall'altra però c'è, come dire, una storia che arriva così da lontano, dai greci, eccetera per cui ne fa un luogo delle origini, no? Per qualche ragione Per cui quando uno va d'Africo, che adesso non c'è più praticamente la parte alta, no? È stata distrutta da un'alluvione E arriva lì e trova dei ruderi, no? Ma questi ruderi sono qualcosa che capisci che sono già delle vestigia di un altro mondo, no? E quel tipo di rapporto puoi veramente pensare a un'idea quasi spirituale Di un rapporto spirituale, quindi la Calabria alla fine è anche un luogo dello spirito, no? Troppe volte viene descritta solo come un luogo della violenza, di questi, quell'altro Invece c'è una sua parte spirituale Esatto Che è molto forte Ed è anche una terra, a dispetto dei suoi chilometri di costa, è una terra fortemente montana C'è una cultura fortissimamente montanara Assolutamente, assolutamente Sono... Nel senso positivo, ovviamente, del termine Nel senso che per esempio adesso la Sprumonte è uno dei posti probabilmente più belli del mondo da visitare Perché è rimasto intatto per certi aspetti Non è così aspro come viene raccontato Ritrovi degli animali, ritrovi delle piante Ritrovi... Però è un ambiente meraviglioso Io e Marcello Fonte, che è uno degli attori del film Noi dicevamo, diciamo a tutti, siamo andati col film in giro per il mondo In Australia, Sudafrica, così E diciamo a tutti che lì c'è l'Eden No, io sono stato, dopo il film, sono stato a San Francisco per l'università E allora, uscito dall'aeroporto, ho preso questo... ho capito la strada per andare nella Baia, no? Sul ponte, per arrivare all'università E, come dire, improvvisamente ho capito la follia in cui siamo finiti in questo mondo Cioè, gente bloccata per 3-4 ore, tranquillamente su questo ponte, in macchina Mentre io arrivò veramente al paradiso terrestre Ho detto, ma... cosa è successo nel mondo, no? È successo che il paradiso l'abbiamo perduto per sempre Abbiamo perduto il paradiso Tu parli molto di anima e dei luoghi dell'anima I posti ti dicono moltissimo E ci sono due posti opposti nella tua vita Che hanno avuto un grande senso per te Uno è appunto la Calabria nella sua diversità E uno è Torino Torino, esattamente Torino, sei andato a Torino quando avevi sei anni, giusto? Sei, sette anni, sì Sono andato con mio padre, no? Che era partito prima di noi per andare a lavorare alla Fiat Diventato un operaio della Fiat Che ha cambiato mestiere, no? Prima faceva il sarto Quindi poi è diventato un operaio Quindi nella mia vita c'è questo viaggio dal sud Dall'estremo sud all'estremo nord, no? Che è poi il rapporto che ho con il mondo io di solito, no? Che è appunto questo mondo, come dire, del nord, del lavoro, del... come dire... Che viene rappresentato dalla civilizzazione, di un nuovo modo di stare al mondo, eccetera E questo sud profondo che è il sud delle origini, no? Io credo che poi l'Italia è un paese così, spaccato ancora tra sud e nord Le persone sono spaccate tra sud e nord, tra est e ovest Cioè sono due entità di solito, no? Allora, se vogliamo fare filosofia diciamo che sono... Che siamo alla ricerca della nostra unica entità, no? Nella vita, quindi io faccio cinema ricercando di ricompormi, no? Di ricompormi la mia vita, quello che sono, eccetera E quindi per me, come dire, è molto forte l'influenza Ha avuto dei miei film, dei luoghi dove sono vissuto Quindi sto nord operaio, come dire, delle fabbriche Lavorare, 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 eccetera E poi invece ho fatto un film, il sud che per me era il mare, no? Preferisco il rumore del mare che lei era, no? Cioè lavorare, 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 preferisco il rumore del mare, no? Dico io, ho fatto un film che si chiama Preferisco il rumore del mare Facendo una scelta Anche perché molti calabresi che andavano nel nord Passavano dal silenzio della montagna al rumore della fabbrica E diventava una contraddizione molto forte nella loro vita All'università ho imparato appunto dal mio professore Che diceva, sai, chi veniva dal sud, dal nord Trovava il benessere, magari si comprava la casa, eccetera Ma perdeva per sempre il suo scenario, i suoi paesaggi Il concetto di bellezza, no? Esatto Cioè, come dire, pagava in maniera... Un prezzo altissimo Un prezzo altissimo Che è esattamente quello Quello dello scenario in cui sei nato E che perdi forse proprio poi per sempre In cambio c'è altro C'è le scuole, c'è gli ospedali Qualche volta, perché poi non è andato sempre così Però, insomma, c'è C'è quella strada lì Era più che altro un patto tra generazioni, no? Si sacrificavano i genitori per consentire ai figli di avere Esatto Per studiare Esatto Un futuro, dei servizi di un certo tipo Anche tu ti sei iscritto all'università di lettere a Torino Faccio scienze politiche Poi ho fatto invece l'indirizzo artistico, eccetera Poi quando ho scoperto il cinema me ne sono andato col cinema Ecco, questa è interessante Come, diciamo, una persona come te Tu non sei cresciuto in un mondo Non sei cresciuto nel mondo del cinema Quindi questa è una passione che ti è proprio nata da dentro Come hai fatto avere questo successo? Perché comunque sei anche un esempio di una persona che ha costruito la propria vita Tu sei uno che ce l'ha fatta Ce l'ha fatta E che sembra impossibile, no? Poi nel mondo del cinema veramente Sembra impossibile che puoi arrivare dal basso Senza raccomandazioni, senza questo, senza questo Sembra impossibile, no? Molte volte Invece è il mondo ideale per questo Perché è un mondo di avventura Quindi vale la pena mettersi in gioco, dico io, in questo mondo qui No, io ce l'ho fatta semplicemente perché Torino è una città molto cinematografica Ho incontrato i cineclub, ho incontrato un mondo anche culturale importante All'università c'erano molte possibilità di vedere i film È una città di cinefile, di appassionati del cinema In due cose Una città di appassionati della cultura Che era, come dire, qualcosa da conquistare nella vita E per me, che venivo appunto dal basso Era molto importante conquistarmi questa cultura per venirne fuori E dall'altra, una città di movimento, di frontiera, no? Quasi Per cui per me ho avuto, sono passata tra questi movimenti di lotta Gli studenti, gli operai Tutti quelli che combattevano, no? Per affermarsi, no? E allora, come dire, quel mondo lì Alla fine mi ha aperto molte strade di conoscenze Di persone che ho incontrato Torino è una città laboratorio Arriva gente da tutto il mondo Mi era facile incontrare gente che veniva a proiettare i propri film Mi ricordo a un certo punto è arrivato Wenders Cioè, era una città che faceva il festival del cinema Che era un festival molto importante Si chiamava Festival Cinema Giovane Era un laboratorio proprio, no? Quindi, se ci avevi, così, se ti scattava L'idea del cinema Torino era una città perfetta E ti ha consentito, ti ha accolto comunque Sì, sinceramente, la città Come dico, io poi non è che ho avuto così tanti problemi Cioè, forse quelli La generazione di mio padre ha avuto molti problemi, no? Essere, come dire A essere integrato, se vuoi, no? Io molto meno Perché te lo conquisti Nell'ultimo film, non racconto proprio questa cosa qui Il concetto di comunità, no? Poi bisogno di qualcosa Te lo devi conquistare Sei in Aspromonte, ti mancano le scuole Ti mancano, ti manca il medico, eccetera Non hai la strada Perché Atrico è proprio un paese che non è collegato a nulla Non ci sono medici, non ci sono strade Praticamente, insomma Questa comunità dice di farsi la propria strada Di farsela, di costruirsela Ecco questa idea di comunità Che per me è stata importante A Torino, no? Di provare insieme a cambiare delle cose alla propria vita Ripeto, poi l'ho messo in questo film Che invece racconta gli anni 50 Ma io l'ho scoperto questa idea Che si può Che si può E quindi è stata una comunità che in fondo A me mi ha accolto Con cui ho avuto un dialogo anche importante Ecco tu, insomma, sei considerato un grande regista del cinema militante E tutto quello che stai raccontando in un certo senso È una definizione che ti piace Che ti ci rivedi Oppure è un po', diciamo, stretta per te? No, non mi ci rivedo completamente Perché questa cosa del cinema militante È più una situazione Della generazione che veniva prima di me Che io ho incontrato da ragazzino Che loro erano molto presi Nel racconto, diciamo, militante Della loro situazione sociale, eccetera Persone di cui ho avuto grande rispetto Sono capaci Capaci e dei maestri Di queste cose qui No, io sono entrato, diciamo, in un filo In una filosofia un po' diversa Che è quella di un cinema Neanche nerealista Io lo chiamo il cinema verista, no? Cioè un cinema che ci appartiene Che racconti la realtà Perché la realtà per me è importante Quello che c'è dentro La realtà Io cerco di non bleffare mai Di essere molto diretto Raccontare Questo è un po' in contraddizione Con quella, con questa vulgata di oggi Che questo è il bisogno di sfuggire dalla realtà No, perché No, io ci sto, molte fortemente Però dentro la realtà C'è alcun'altra cosa Che è la verità Quella è una cosa più difficile ancora Questo, diciamo, a livello personale Cerca la verità delle cose Che va al di là di molte cose Che cos'è la verità delle cose? E questa è veramente la cosa più difficile Perché diventa poi un rapporto personale Tra te e il mondo, no? E a me questa educazione alla verità Mi è arrivata attraverso il documentario Più che la finzione, no? Il documentario che ti obbliga Per raccontare un problema Una situazione, eccetera Di andare a contatto con le persone Andare a contatto nella strada Andare a contatto nelle fabbriche Andare in contatto dove c'è la vita, no? Che si sta muovendo Dove sono le persone, diciamo Che stanno vivendo i loro problemi Ma le persone che vivono i loro problemi Non sono solo problemi Sono molto di più Ecco, io ho la ricerca di quest'altro momento Che è l'umanità delle persone Cioè, tu sei un operaio Hai problemi Ti pagano male Ti fanno questo Ti fanno quell'altro, eccetera Puoi combattere per cambiare la tua situazione Se tu però ti occupi di loro Come io mi sono occupato di mio padre Delle persone che erano state in fabbrica Come mio padre, eccetera Tuo padre lavorava alla Fiat? Dove? Ha lavorato a Mirafiori A Mirafiori Ha lavorato a tutte le parti Perché lì poi si spostavano tantissimi Cioè, quando tu sei un operaio Con i tuoi problemi Non sei solo i tuoi problemi Se sei un detenuto Non sei solo il tuo reato Sei molto di più Sei una ricchezza più profonda E quella, io dico, è la verità di quello che uno è No? Che va al di là di quello che sta vivendo In maniera contingente in quel momento Sì, invece si tende soprattutto oggi Con, diciamo, anche con questa Con le tecnologie A dare subito un'immagine Un'immagine immediata Sì, sia non multidimensionale Ma unidimensionale dell'essere umano Tu invece vuoi andare nel profondo Profondo Ma il cinema è uno strumento che lo permette Questo è importante Ancora oggi, secondo te? Abbastanza È cambiato il cinema? Moltissimo, moltissimo È diventato un'altra cosa C'è la televisione che è uscita Come dire, a farci molta concorrenza Entrare, eccetera Il cinema con le nuove tecnologie È molto cambiato Però c'è un'essenza fondamentale Che è il racconto Cioè, il racconto degli esseri umani È sempre lo stesso Poi puoi trovarti uno strumento che vuoi Per portarlo in superficie, no? Cioè, le persone hanno bisogno di essere raccontate Il cinema è ancora forte in quello E questo film che cosa racconta? Astromonte, la terra degli ultimi Racconto proprio quest'idea Del bisogno delle persone di esistere In qualunque condizione Cioè, ognuno di noi ha diritto di esistere E di esprimersi E di avere delle opportunità E questo è un bellissimo messaggio oggi Spero Particolarmente importante Al di là della situazione Mentre stavo lavorando lì Facevi sopra il luoglio Andavo in questi posti abbandonati, no? C'erano le maestre che erano disperate Scioperavano, eccetera Perché si svuotavano i paesi Si svuotavano le scuole Quindi dovevano ricostruire scuole a chilometri Per avere dieci bambini Per poter fare una classe Questo succedeva esattamente Mentre dall'alto tu guardavi C'era una nave laggiù in fondo Con delle famiglie Bloccate in un porto Che non potevano entrare Di cosa avevano bisogno quelle persone? Di scuole, di case, eccetera Che erano lì La politica si scontra, no? Se devono entrare gli stranieri, no? Babà, l'immigrazione, eccetera La realtà ti dice Che non è un problema Cioè, che si risolve in un secondo Perché là sopra Quei paesi hanno bisogno esattamente Di quelle persone che c'erano E poi in questi giorni Sono usciti i dati Istat Che nel nostro paese Non nascono più bambini, bambine Quindi sarebbe stato perfetto C'era Mimmo Lucano Che faceva l'accoglienza E lo chiudevano Cioè, esattamente il problema Era risolto da solo Si risolveva da solo Invece, no La società non è capace Capito? Di guardare il problema Guarda qualcos'altro Che va al di là Il cinema raccontando una storia Guarda il problema Per questo mi piace fare il cinema Perché c'è C'è una cosa da raccontare Se la racconti bene Può servire Sta servendo il tuo film Ma sì, sì Tanto c'è questa cosa Dei calabresi Che si ritrovano finalmente Non raccontati solo Appunto come un problema Ma come gente capace Di mettersi insieme Risolvere i problemi Affrontare la vita Eccetera Invece si dice che sono Bastanza litigiosi Litigiosi Poi c'è l'andrangheta C'è questo C'è quell'altro Forse hanno bisogno Di essere Come dire Messi al centro D'attenzione Ogni tanto Perché questi Dall'abbandono È una cosa che poi La paghi Perché ti chiudi In te stesso Fai delle Ma ti dico Io ho trovato Dei ragazzi Meravigliosi Lavorando lì Appassionati ai film Vogliono continuare A farcino Forse se qualcuno Gli ha una piccola mano Ce la fanno anche Sicuramente Sono delle Appunto Delle umanità Da valorizzare Assolutamente Abbiamo detto Che di solito Inizia tutti i tuoi film Con un punto di domanda È vero A cui cerchi di dare Una risposta Abbastanza Non sempre ci riesco A dare una risposta Devo dire Riflettevo questa mattina Che ho fatto un documentario Che si chiama Volevo solo vivere Sulla showano Sulla showa italiana Ad Auschwitz Così eccetera E parlavo con delle persone Oggi E anche queste persone Capito C'è più anzi di me Il mio produttore Lucisano Che c'ha 94 anni Dice Ma E lui ci pensa da anni Anche Ma perché è successo Tutto questo Ecco perché Ma tanti ce lo chiediamo E questa cosa qui Veramente Io ci ho lavorato due anni Ho sentito tutto Mi sono documentato Però alla fine Non riesci a trovare Una risposta E questa è la cosa Che ti fa più paura Secondo me Che gli esseri umani Possono arrivare A un livello tale Di aberrazione Come in quel caso lì E non hai una risposta Non so come dirti Perché sai Uccidi 6 milioni di persone Perché questi Non solo la stanno facendo È sbagliato Però Come dire Dici L'hanno fatto per questo In quel caso lì Tu oggi Non hai una risposta E questo è veramente Molto Non sempre trovi Una risposta Alle cose E anche lì Forse Forse delle domande Già Ma forse Forse delle domande Bene Perché invece Dalla mia esperienza Vedo che Quasi nessuno Si pone mai domande Tutti certezze Un po' Certezze La politica Soprattutto Certezze La politica È tanto distante Dalla società Oggi È molto chiusa Nelle loro Nelle dinamiche Che li appartengono Assolutamente È il linguaggio Che gli appartiene È incomprensibile Per quasi Tutte le persone Normali C'è proprio Un mondo a parte Ormai Fa parte È un mondo a parte Che anche le persone Sono abituati Ad accettarlo Quindi Non è che chiedono Di cambiare Questo modo qui Votano Dalla parte Dall'altro Secondo la situazione C'è poca partecipazione Proprio perché Quel linguaggio lì È quasi incomprensibile Esatto Noi abbiamo avuto Tra i nostri ospiti Anche Bobo Craxi Che insomma In occasione Di questo film Del film Mamet Oltretutto Il regista Era un altro calabrese Bravissimo Che cosa pensi Tu ti sei molto occupato Di quegli anni Hai fatto anche un film Sul terrorismo La seconda volta Giusto Che cosa pensi Di quegli anni E come Ovviamente Sicuramente Non ti chiedo Un giudizio sul film Ma più che altro Su quel periodo storico Sai Quel periodo storico lì C'è poco Da fare È stato un momento Di grandi battaglie Confronti La politica Era forte Ma anche nelle cose peggiori Come quelle di Craxi Quindi bisogna essere Dire le cose Come stanno Lui è uno statista Uno forte Capace di intervenire Ha fatto le cose terribili Ha rubato Perché questa è la verità Che ne è venuto fuori Però voglio dire Però voglio dire Comunque c'erano C'erano dei leader politici Capaci di stare E di avere delle soluzioni Anche Positive No C'erano capaci di fare Il loro mestiere Se vogliamo Infatti nel film Di Amelio Una delle frasi Che dice appunto Bettino Interpretato poi Da Agafavino Dice La politica Quando sei un uomo politico Devi dare risposte a tutti Tutti Questa è una verità profonda Secondo me Che valeva per i comunisti Valeva per i socialisti Valeva per i democristiani Ma valeva per gli estremisti Come me Allora che era un ragazzo Che voleva fare La rivoluzione Cioè la politica Doveva dare Delle possibilità Al mondo Per andare avanti Eccetera Poi li puoi tradire Eccetera È stato un momento Di grandi conflitti Questa è la verità Cioè lì c'è stata Fino alla guerra del terrorismo Il terrorismo è stata una guerra Poi Come è stato il terrorismo Tu Quel film tuo è stupendo Sì Come Ma sai lì è stato Perché poi io Molti di loro Li ho conosciuti Anche Loro erano più grandi di me Però Capivo che hanno Come dire Fatto qualcosa che Probabilmente molti Quando sono in una situazione Estrema No? Vicino alla possibilità Di prendere il potere Di Cioè veramente Perdono la testa Cioè Mi è sembrato Che molti Di queste persone Che forse Avevano fatti i movimenti Avevano cresciuti In un certo modo Veramente Hanno perso la testa Di fronte alla possibilità Di prendere il potere Che era una follia Cioè Visto poi Come dire Con una minima lucidità Quella era una follia Cioè non potevi prendere Quel potere lì In quella maniera Eccetera Facendo quelle scelte Scellerate Della lotta armata Tutte quelle cose lì Però c'è una situazione Che aveva illuso No? Che era possibile Fare quella strada lì Però loro hanno fatto La cosa peggiore del mondo Insomma Che hanno messo I piedi in testa E i loro movimenti Cioè Il loro modo di fare Di prevaricare Hanno prevaricato Chi invece si batteva Gli studenti Gli operai Eccetera Cioè li hanno rimessi In difesa Non hanno creato Quella forza E quella comunità Perché loro si sentivano Onnipotenti Capaci Con le loro pistole in mano Si sentivano onnipotenti Un disastro E noi appunto Veniamo dalla Dalla notte degli Oscar Da poco Ha visto Ha vinto questo Film straordinario Parasite Un film coreano Che racconta un po' Qualcosa di questo film Non so Ci ricorda un po' te Grazie Perché ci parla l'intimo Cioè C'è un'idea anche di intimo Che faccio nei miei film Sempre No la cosa straordinaria Di questo film Sai qual è Che vince l'Oscar Un film Forse l'ha scritto Saviano In questi giorni Da qualche parte Un film che vince Che non è inglese In lingua inglese Che non è prodotto Con gli americani Che come dire Racconta in una maniera Che non c'entra niente Col grande cinema americano Vuol dire Che è cambiato il mondo Cioè In qualche maniera Un coreano Che non parla l'inglese Cioè va a prendersi E non parla l'inglese Sì esatto Ma guarda che questo vuol dire La fine di un dominio Sì Questo è positivo Positivo C'è nel senso Che in positivo C'è il fatto Che questo film Ha conquistato Ha vinto Cannes C'è nel senso Un film che vince Facendo un po' La rivoluzione E questa rivoluzione È anche un po' La rivoluzione Che raccontavi tu Cioè una famiglia Che viene Una famiglia povera Umile Che entra nella vita Di una famiglia Alto Borghese Esatto E pian piano Entra nella vita Di questa famiglia Veramente una cosa interessante Anche forse un po' Il sogno Di tutti quanti Di modificare Le proprie condizioni Che cosa diresti Tu oggi A un giovane Una giovane Intanto il mondo del cinema È ancora molto maschilista Qui noi siamo Tu hai ragione Hai sicuramente ragione Che cosa bisogna fare Per fare in modo Che le donne Possano avere Anche qui Anche in questa tornata Di Oscar Non ha vinto nessuna Io credo che Vincesse Scarlett Johansson Con Storia di un matrimonio Un film molto bello Molto bello Lo stessi Un film molto Molto bello Molto reale Avrei pensato che Sì Molto drammatico Anche se vuoi Nessuna donna regista Però lì è un film Molto femminile Secondo me Sì totalmente Sono dei film femmini Che hanno come dire Un'impronta femminile Grazie magari all'attrice Eccetera Esatto Lì c'è uno Sovvertimento poi Del rapporto Tra le persone Che si fanno dominare Da questa Avvocati Che sono Aggressivi Sulla loro vita Un film è veramente Bello Ma come si può rendere Un po' più femminista Il cinema mondiale Poi non è solo Un problema italiano Secondo me è molto difficile Perché c'è una struttura Diciamo L'idea del comando È molto forte Nel cinema c'è un'idea Di comando Molto verticistica Molto potente Quindi le donne Hanno difficoltà A entrare a muoversi Dentro questo tipo Di situazioni C'è anche un tema femminile Nella capacità Di gestire il potere Diciamoci la verità Lì deve essere Secondo me il gioco E quindi ci vuole coraggio Ci vuole molto coraggio Per esempio Tu cosa diresti a una donna Io direi di imitare La Bigeloff Che quando fai i film Sembra che va in guerra È bravissima Cioè ha una determinazione Come entra sul set Eccetera Che è molto forte Ma non è una determinazione Come dire Maschile Una determinazione di chi sa Che vuole vincere E che vuole affermarsi E che c'è i mezzi per farlo Per questo dico Ci vuole coraggio Bisogna avere il coraggio Di essere quel che si è Capito? Cioè E se come vinci Alla fine ce la fai Soprattutto diciamo Nel mondo Degli imprenditori Che loro sono veramente Un mondo Non te lo dico io Con lo scandalo Dei Weinstein Me too Eccetera Quel mondo lì Era dominato da gente così È dominato da gente così Quindi Ci vuole coraggio Battersi Ci vuole tanto coraggio Quindi Donne Datevi da fare Buttatevi Perché insomma Mimmo dice Che ce la possiamo fare Assolutamente Raggiungere anche queste vette Che sono degli uomini Tu hai dichiarato È vero Mi verrebbe quasi voglia Di essere come Spike Lee Prima dicevi che le persone Noi siamo tutti un po' divisi Tra contraddizioni Nord, sud, est, ovest Cioè vorresti fare Il razzista Al contrario Secondo te Questo nord Nord dell'Italia Ancora oggi Ha riconosciuto Il ruolo importante Che il mezzogiorno Tutto il sud Ha dato Il contributo enorme Che hanno dato No C'è una C'è una cosa rispetto al sud Che è incredibile Anche questi giorni Era in Veneto Continuano a dire La Terronia Ma a me non mi dà fastidio Ma come dire C'è una specie di luogo comune E poi di sovrastruttura Di razzismo Da quattro soldi E non stiamo parlando neanche Del razzismo Quello Quello come dire Proprio di basso livello In cui come dire Non ti concedono Il fatto che il sud Può essere veramente La chiave di volta Di questo paese Non lo vogliono fare Ma non solo Pensa al sud Capito Che è portato al nord A lavorare Nelle fabbriche Niente Cioè questa è un'idea Proprio Che manca Continua a pensare A un sud Che non lavora Che non fa Che vogliono andare tutti A fare il posto fisso E non guardano per niente I nostri giovani Perché invece I ragazzi del sud Vanno in giro Per il mondo Si affermano ovunque Perché continuano A guardare l'Italia Cioè continuano a guardare Il mondo In maniera vecchia Invece i ragazzi giovani Secondo me Avranno la possibilità Invece di farlo saltare Lo schema Perché In un mondo Dove loro stessi Girano tantissimo Nord Sud Eccetera È un elemento Quasi geografico Capito In te è fortissimo Perché vieni dal sud Sei andato al nord Vivi a Roma E io infatti Però dico appunto Io a sto punto Dico a sto punto Mi schiero col sud Cioè dico È là che ci sta la soluzione È là che sono bravi E in fondo Come dire Il nord ne ha bisogno In maniera Glamorosa Dico se sono a Milano A presentare il film A un certo punto Mi dicevano Ma l'Andrangheta 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 Io ho detto L'Andrangheta è a Milano Lo sanno tutti E tutta la sala Si è fatto una risata Perché sanno che è vero Cioè Voglio dire Ormai Quanto può il cinema Battere gli stereotipi Perché sono veramente Complicati Sono difficili Dovrebbe batterlo di più La televisione L'educazione Sai il cinema Raccontando le storie Si può permettere Tanto Però poi la gente Le persone che vanno al cinema Magari per un attimo Ti concedono le cose Poi il cinema passa Invece è il quotidiano Che è difficile Da battere Su queste cose qua Vedo a scuola Mia figlia Cioè Il quotidiano Le persone Continuano A dire Fare Muoversi In una maniera Che non vuole Come dire Affermare Il diritto di uguaglianza Per tutti L'idea dell'uguaglianza È una cosa che non è ancora passata Noi siamo in chiusura E questa frase Sull'uguaglianza È Diciamo Un principio Che aiuta tutti Perché una società uguale È una società Dove Dove tutti stiamo meglio Poi fondamentalmente Quindi L'ultima domanda Che ci vogliamo fare Più che altro È un monito Un aspicio Che cosa direi Sti giovani Sono molto importanti Sono pochi Nel nostro paese Come dicevi te Molti vanno fuori È giusto Che vadano fuori A fare delle esperienze Il problema È che poi Non tornano Esatto Questo è il fatto Che cosa Direi sti ai giovani Alle giovani D'Italia In generale Su questo paese Un messaggio di speranza O un messaggio di rassegnazione No Di speranza Di speranza Tutto il mondo Ormai è un mondo Che si muove Non bisogna avere paura Di muoversi Cioè Questa è l'idea Non bisogna avere paura Di muoversi Tra il nord e sud Andarsene Più a sud ancora Più a nord ancora Da qua Da là Insomma Bisogna avere la voglia Di vivere la vita Come un'avventura Non rinunciare Alla propria avventura Soprattutto quando si è giovani Alla propria ricerca Della verità Sì Sì Alla propria strada Se vuoi Che col mio film Che tutti cercano una strada Ognuno le trova Alla propria strada Che deve essere sua Non deve avere paura Di queste cose qui Cioè Non deve omologarsi A tutti i costi Il mondo omologato Serve solo Per vendere jeans O per vendere Vestiti O per vendere Che ne so Merci Il mondo omologato Serve per creare Dei clienti Il mondo invece Dei diversi Serve Come dire Per vivere la vita Con questo Chiudiamo Mi sembra Un grandissimo Messaggio Importante Che soprattutto Tra gli adolescenti Deve passare C'è una tendenza Molto All'omologazione Ma non solo Tra i giovani Anzi Spesso questa Omologazione Questa composizione Di convenienza Vengono prese anche Le serve Noi ringraziamo Tantissimo Il prossimo Progetto Si vedrà Allora in attesa Andiamo tutti intanto A vedere questo film E ti ringraziamo ancora Per tutto quello Che ci hai regalato Con questa intervista E a voi E alla prossima puntata Grazie ancora A presto A presto A presto A presto A presto A presto